Ben trovati su bioblu.com, oggi siamo con Danilo Casertano, presidente dell'associazione Manes, cofondatore dell'asilo nel bosco, asilo del mare, scuola nel bosco e portavoce di pedagogia, dei talenti e maestri di strada, street school, scrittore e formatore. Ben trovato su bioblu.com. È un piacere essere qua. Intanto vorrei capire come mai hai deciso di dedicare la tua vita praticamente all'insegnamento. Allora, io ho dedicato la mia vita all'educazione principalmente perché penso che non volevo crescere. La cosa che per me e per tanti anni me ne sono vergognato era il fatto che a me piacesse giocare. Ancora oggi a me piace moltissimo giocare. E ho studiato tanto per capire... Si gioca a scuola? Eh, ma sì, allora il gioco è la cosa più seria che io conosco, ok? Quindi per me la cosa importante era giocare a fare il maestro perché era il gioco di ruolo che mi piace tantissimo e che mi è piaciuto tanto fare questo personaggio. Fare il maestro è un personaggio che mi è piaciuto tanto. Io credo che un grandissimo pedagogista contemporaneo, che però non passa tanto come pedagogista, però per me lo era, che si chiama Michael Lande, quando lui ha scritto Momo, c'è una scena meravigliosa, è la scena dell'anfiteatro dove sostanzialmente fa parte di quel capitolo dove c'è scritto che cosa accade quando viene Momo. Ecco, quando arriva Momo si gioca. Allora tu vedi tutti questi bambini che non sapevano giocare, che in quel momento decidono di fare la nave e quindi ognuno prende un ruolo, chi fa il capitano, chi fa l'esploratore, Momo fa l'indigeno e tutti trovano all'interno di quello scenario un gioco da fare. Ecco, io credo che per me la scuola è stato questo. Cioè io volevo passare la mia vita all'educazione perché i bambini sanno giocare. Fino a una certa età sono bambini che sanno giocare benissimo, poi sono bambini che purtroppo ho visto nel corso di questi vent'anni e più passati nell'arco dell'educazione che facevano sempre più fatica a giocare. Quindi sì, io ho passato la mia vita all'educazione perché volevo giocare e volevo stare con persone che non perdevano la voglia di giocare. A cosa serve giocare poi nella vita dopo la scuola? A cosa serve saper giocare più che altro? Ma secondo me uno non smette mai di giocare. Il problema è che poi uno si convince che è finito il gioco. Il gioco, per come lo vivo io, è prendere un ruolo, prenderne un altro, entrare in una dimensione temporale a volte completamente diversa perché quando tu giochi, non è che il tempo smette di scorrere, il tempo lineare continua ad andare, infatti a un certo punto ti vengono a chiamare, devi fare i compiti, devi andare a pranzo, devi andare a cena. Però all'interno di questo tempo lineare esiste un altro tempo che travalica e che è il momento del carosso. In quel momento tu sei totalmente concentrato a vivere una cosa, focalizzi tutte le tue energie, entri in un'atmosfera veramente estatica ed estetica veramente molto importante. Quando queste cose accadono e accadono tutte le volte che si gioca, a quel punto la si impara. Si impara veramente, si impara in un modo che non esce più. Se tu hai imparato a giocare a scuola, dopo nella vita saprai lavorare con lo stesso spirito perché quando tu stai giocando, giocare è la cosa più importante. Le regole sono funzionali al gioco. Io sto parlando ovviamente non nel gioco quando giochi a calcio o giochi a uno sport codificato, stai giocando a carte. Quando ti sto parlando per me il gioco è precisamente il gioco di ruolo, il gioco simbolico. È un'operazione diciamo creativa. Sì, è un'operazione creativa che però è finalizzata a uno scopo, cioè quello di vivere il momento. Di vivere quel momento, di viverlo appieno, di saper cambiare atteggiamento per far sì che il gioco possa fluire. Dove l'obiettivo è quello. E dove un bambino che sta giocando riesce anche a dire agli altri bambini se fai così il gioco non funziona, smettila. Cioè riesce a essere creativo ma allo stesso tempo anche a essere critico rispetto a quello che sta accadendo. Altre volte, se no, tu fai quello che sono le istruzioni. Quindi una persona che è stata educata al gioco, una persona che sa rispondere, sa essere sia creativa che perfettamente aderente alla regola, se però la regola è funzionale, e ha lo spirito critico di saper dire no, questa cosa non funziona. Queste sono capacità fondamentali per lavorare in maniera autonoma e per lavorare in questo tempo. Altrimenti sei soltanto uno che esegue degli ordini, esegue delle istruzioni. Per tanti anni questo non era il ministero della pubblica istruzione, erano le istruzioni dovevi seguire, seguire le istruzioni. Il lavoro anche si può intendere come colui che eseguisce dei comandi, delle istruzioni che gli dà la sua scala gerarchica, oppure sempre di più il lavoro invece significa prendersi una responsabilità e trovare una soluzione davanti a un problema aderendo a dei principi. Ecco, questa per me è la spiegazione del lavoro contemporaneo e allo stesso tempo è quello che il gioco è in grado di insegnare ai bambini e alle persone. I sistemi educativi sono una scoperta molto recente della storia dell'umanità. Noi la diamo per scontata perché semplicemente sono passate più di due generazioni e questo è un grave limite quando si pensano ai sistemi educativi perché prima queste differenziazioni non c'erano. Ovviamente adesso ci sono e quindi le diamo per scontate, ma è molto importante ricordarsi che l'impero romano per otto secoli non ha avuto una scuola codificata eppure hanno scoperto tante cose e hanno fatto tante cose. Diciamo che c'è stata una grandissima frattura a un certo momento quando si è dovuto pensare a come creare un sistema per la scuola di massa perché questa è la grande sfida, questa è stata la grande domanda, come si fa una scuola di massa? A questa grande domanda si è risposto nel tempo in vari modi. A un certo momento è diventata chiara che ci doveva essere una grandissima differenzazione tra chi doveva comandare e chi doveva eseguire. E c'era anche una sorta di pregiudizio, questo è molto gentiliano. Giovanni Gentile, che è stato un grandissimo filosofo della storia contemporanea, e ovviamente quando è stato chiamato a fare il ministro dell'educazione in epoca fascista ha trasmesso anche alcuni dei suoi principi. Per esempio per lui c'era questo principio che tecnica e intelligenza fossero due cose separate. Aveva questa visione anche dei greci come un popolo che sostanzialmente non apprezzasse la tecnica. Credo che questa sia una visione profondamente sua, personale, un'interpretazione che alla fine si discosta molto. Basta solo pensare che per Anasagora l'intelligenza c'è perché ci sono le mani. E quindi sostanzialmente grazie alle mani l'essere umano produce cose, costruisce cose che imita dalla natura e facendo questo, acquisendo strumenti, diventa sempre più intelligente. Fino a quando poi questi strumenti sono anche in grado di produrre cose per il piacere, quindi gli strumenti musicali. E quindi sostanzialmente l'uomo grazie alle sue mani produce cose che sono utili e anche piacevoli e questo lo rende sempre più intelligente. Forse nella visione gentiliana noi andiamo a vedere che esiste per esempio un liceo, un liceo classico straordinario dal punto di vista dei contenuti umanistici, meraviglioso per la riflessione della lingua, per il pensiero, per la filosofia. Poi ovviamente ci domandiamo chi fa il liceo classico ancora oggi, quanto usa le mani, quanta arte realmente produce, quante cose gli vengono richieste di realizzare e di produrre attraverso le mani. E ovviamente facendo dall'altra parte il contraltare a quello che è la formazione professionale, la formazione tecnica, a cui invece non viene consentito questo accesso a questi studi umanistici, anche l'accesso allo studio della filosofia è qualcosa di ovviamente marginale. Oggi purtroppo in tanti studi tecnici poi nemmeno più tanto le mani funzionano più di tanto, perché comunque tante ore di laboratorio sono state tolte, però diciamo si vedeva che c'era questa visione dicotomica. Per Giovanni Gentile in qualche modo per lui chiunque lavora è un servo della gleba, quindi c'è una visione abbastanza dicotomica. E' sicuramente classista, sì. E oggi ci possiamo domandare se questo sistema non risulti chiaramente obsoleto, anche perché io sono molto stanco di queste visioni sempre totalmente dicotomiche, quindi o è privato o è statale, o bisogna fare la scuola delle competenze, invece la scuola della cultura, sempre come se non si potesse mai trovare un equilibrio tra questi elementi. e invece io sono assolutamente convinto che questo equilibrio è possibile, è auspicabile e che vada assolutamente ricercato, che è un equilibrio mai in termini assoluti. Oggi la scuola, ma come tutto, non lo vediamo, anche gli oggetti sono fatti sul design, sulla persona. Noi viviamo in un'epoca che sempre di più coglie gli elementi della persona e l'educazione deve sempre più andare in direzione della persona. E quindi per ognuno di noi l'equilibrio tuo e mio tra la testa, le mani e il cuore non è lo stesso. Cioè lo stesso è il principio dell'equilibrio, ma non può essere lo stesso nella dimensione, anche perché abbiamo età diverse, abbiamo temperamenti diversi, abbiamo caratteri diversi e abbiamo storie diverse. Però sia me che te che tutti abbiamo bisogno di trovare un equilibrio. Quali sono gli scopi della scuola oggi? Ma sai, amico mio, questa cosa qui è veramente la grande domanda. Cioè la grande domanda è perché si va a scuola. E se tu lo chiedi a un bambino piccolo, che sono le uniche persone serie che io frequento, ti devo dire la verità, sono le loro risposte, sono sempre quelle che mi piacciono molto, molto. Allora diciamo che il bambino quando è piccolo ti dice che va a scuola, ma è proprio piccolo, piccolo, perché così incontra i suoi amici. E quando sei molto fortunato ti dice anche perché vuole bene la maestra. Poi quando sono un po' più grandi tu gli chiedi, ma perché vai a scuola? E loro ti dicono, eh, perché devo imparare a leggere e scrivere. E fino a qua tutto sommato ce la caviamo, no? Poi arriva il momento che poi purtroppo alla domanda di cui perché si va a scuola arriva la fatidica, terribile risposta, perché ci devo andare. E quando arriva quella terribile risposta che ti dicono perché ci devo andare, allora sei passato al lato oscuro della forza e quindi sostanzialmente in quel momento la scuola piomba come un dovere e come sostanzialmente una prima forma di carcere che poi può diventare un 41 bis molto duro, un carcine leggero, ma diventa un carcere. Se tu lo chiedi a me, che sono purtroppo diventato un adulto, la risposta al cui perché si va a scuola ripercorre quello che sono le risposte dei bambini. Andiamo a scuola perché vogliamo stare con altri, però questi altri dovrebbero essere un po' di più di quelli nati del tuo stesso anno. Si va a scuola per scoprire quali sono i propri talenti e le proprie fragilità, perché anche tutta la scuola che insiste soltanto su ciò che ti piace, su ciò a cui riesci, è un'esagerazione, forse è un movimento, dipendo dall'altra parte, di quella scuola che mi ha costretto a fare tantissime cose di cui non avevi voglia. Quindi i talenti e le fragilità sono qualcosa che sono molto vicino l'uno agli altri e oggi abbiamo tanta letteratura scientifica che ci dice che ci sono tanti tipi di intelligenze, ci sono tanti tipi di giochi diversi e quindi abbiamo oggi tantissime possibilità per andare a mettere in pratica cose che abbiamo studiato e abbiamo capito che esistono e sono reali. Quali sono i limiti della scuola oggi? Ma i limiti della scuola oggi sono evidenti, cioè è proprio dire come nella favola il re è nudo, cioè se tu prendi cento, mille, un milione di persone, venti milioni di persone e gli fai la domanda e gli chiedi, ma secondo te la scuola funziona, la maggior parte delle persone ti risponde di no. Quindi io dico sempre che un sistema educativo deve rispondere a delle domande, che sono domande molto semplici, no? Perché esiste? Chi lo fa? Dove lo fa? Quando lo fa? Cosa fa? E come lo fa? Nel momento in cui oggi noi andiamo a vedere, facciamo un'analisi del perché si va a scuola, un po' ce lo siamo detti prima, non è così chiaro perché si va a scuola. Principalmente, come ti dicevo, si va perché si deve, cioè il si deve non dovrebbe essere la risposta per cui si va a scuola. Dopodiché c'è una tematica che a me è molto cara, che è quella sui luoghi. Perché i luoghi condizionano? Io sono uno dei fondatori dell'asino nel bosco, ma non perché avessi un passato particolarmente verde nella mia vita. Io sono cresciuto a Ostia, principalmente giocando a pallone, e tanto solo per farti capire, non ho fatto i boy scout, e ho scoperto a 19 anni che non c'era l'albero delle olive bianche che è l'albero delle olive nere, io pensavo che era come il lupo. Quindi pensa un po' che tipo di condizioni ci poteva avere della natura. Però ho giocato all'aria aperta, ho sempre giocato all'aria aperta, e oggi il bambino contemporaneo passa così tanto tempo a scuola o in un luogo chiuso, che sia la macchina del traffico, o sia dentro una buca a Roma, oppure che sta dentro a uno schermo, che il suo tempo da passare all'aria aperta con i suoi coetanei, cioè calcolo a un carcerato americano, ha diritto a un'ora e mezza al giorno. Ora tu pensa se durante il periodo scolastico da settembre a giugno i bambini dal lunedì al venerdì, anche se come di fine settimana, ma limitiamoci al lunedì al venerdì, se secondo te passano un'ora e mezza fuori in libertà, in tranquillità, a godersi il sole, la pioggia o quello che sia. E quindi questo è un problema, i luoghi sono sempre più sovraffollati, sono come delle sale slot, tu entri sotto al neon, qui esci che sei stato tutto il giorno incontro al neon, insomma l'edilizia scolastica è anche un altro di quei disastri che purtroppo ci dobbiamo confrontare, quindi sul tema dei luoghi è male, molto male. Sulla tematica del tempo è lo stesso, il tempo che si passa a scuola è troppo lungo, è troppo lungo a fare sempre le stesse cose, per me è la scuola che si prende cura dei bambini e delle comunità, tutte le esperienze che ho visto di scuola aperta per tanto tempo, se vengono cambiate le attività, la scuola può stare aperta pure tutto il giorno e tutto il tempo. Senti, ma secondo te come mai sei arrivati a questo? Ma guarda, questa è una grande domanda, io penso, guarda, ti do l'ultima risposta che mi sono dato, perché nel corso del tempo me le sono date tante, diciamo che a un certo punto mi sono stancavo di quelle complottiste, e allora quelle le ho lasciate un attimo a perdere, forse ci sono anche delle verità anche là dentro, c'è sicuramente un escursus storico, c'è anche a Robinson che ha fatto un video molto bello, cambiare i paradigmi dell'educazione, milioni di persone l'hanno visto in tutto il mondo dove lui ha fatto la sua spiegazione. Io ti voglio dire la mia ultima spiegazione, La mia ultima spiegazione è questa qua, però voglio anche poi non passare per quello contro la tecnologia, anzi io adoro la tecnologia e credo che le due cose si possano mettere insieme, che l'educazione del futuro, se utilizzare la tecnologia in maniera sensata, potrà anche farcela. Però è una riflessione fatta, adesso scusami, tiro fuori un personaggio del passato un po' scomodo, un personaggio un po' antipatico che è Aristotele, cioè lui nella sua definizione di ciò che è naturale, ciò che è artificiale, e non aveva una visione dicotomica, non è che per ciò che Aristotele era artificiale era sbagliato, però è ciò che ha in sé il principio della quiete e del movimento. Quindi quando tu sei a contatto con qualcosa di naturale, come l'essere umano, come una pianta, tu hai davanti a te qualcosa che ha in sé il principio della quiete e del movimento. Guarda, la vita in generale è fatta tutta così, il sole, la luna, il giorno, la notte, ispirare, ispirare, sistole, diastole, tutto un equilibrio tra ciò che si sta fermo e ciò che si muove. Ciò che è artificiale invece è ciò che l'uomo produce imitando. Tu guarda due cose molto diverse, un tavolo sostanzialmente sta sempre in quiete, i server che fanno andare avanti tanto della nostra tecnologia stanno sempre in movimento. E' come si diventano assoluti in uno o nell'altro caso. E quindi credo che noi, togliendoci dalle elementi di natura, cioè tu guarda anche questo studio, è molto simpatico, stiamo qua a fare una bellissima chiacchierata, prova a togliere tutto quello che è artificiale. Rimarremo solo noi. No, non mi sei. Ah no, c'è qualche piantina, quindi volendo rimane. Però è veramente, siamo circondati da elementi artificiali. Ora, se tu vivi in contatto con gli elementi naturali, secondo me ti ricordi che sei un essere naturale e che quindi c'è bisogno di un ritmo e di un equilibrio tra questi aspetti. Se tu questa cosa ti allontani, quindi ti circondi di cose artificiali che non hanno in sé questo principio, allora tu alla fine ti dimentichi che invece tu devi prenderti cura e devi dare cura rispettando la quiete e il movimento. Non hai il sospetto che noi abbiamo un po' di fatica a trovare la quiete in questo tempo? Anche una questione di relazioni probabilmente. Come ci si relaziona con questa realtà? E con chi ti relazioni? Cioè se tu ti relazioni... Oggi molte persone si relazionano attraverso la tecnologia e quindi, perciò ti dicevo che la tecnologia si deve prendere una grande responsabilità, perché la tecnologia imita la natura. E allora la tecnologia nel momento in cui andrà sempre di più a imitare alcuni aspetti della natura che sono la relazione e la condivisione. Guarda quanto sharing economy, quanto la condivisione delle informazioni oggi sta cambiando, voi ne siete anche un esempio, no? Quindi l'elemento della condivisione grazie alla tecnologia arriva a dei livelli che prima non erano ipotizzabili, no? Quindi la tecnologia non è sempre solo male. La questione è che dobbiamo trovare un modo di integrare la tecnologia nella nostra vita e la tecnologia dovrà sempre di più trovare quel modo per non risultare un elemento che ci toglie dal filtro e quindi ci fa entrare soltanto in un movimento, in un'eccessiva guerra, in un'eccessiva movimento. E quindi per me, ripeto, la tecnologia sarà un elemento enorme, anche perché io credo che la scuola in un tempo abbastanza breve probabilmente sparirà. Cioè io non so quanto tempo, no? Ma è un concetto veramente molto molto obsoleto. Ora non so quanto tempo ci vorrà, ma io sono convinto che la scuola... Ma non è che ne sono convinto io, basta solo riflettere su quante cose della realtà che esistevano fino a poco tempo fa, oggi non ci sono più. Anche se la scuola, ovvio che coinvolge milioni di persone, è un artefatto abbastanza duro da far sparire, però io credo che sarà quella cosa dove lentamente, lentamente, lentamente arriveranno degli impulsi per dargli proprio, guarda che devi cambiare, devi cambiare, devi cambiare e a un certo momento cambierà tutto in un botto. Io me ne sto accorgendo rispetto all'insensato successo che ha avuto l'asilo nel bosco negli ultimi cinque anni, cioè un fenomeno gigantesco che mi ha fatto a me personalmente incontrare migliaia di persone, mi ha fatto viaggiare a tutto il mondo, sono stato tre mesi in Cina per aiutare i cinesi a aprire il primo bosco cinese, cose assolutamente folli, cose impensabili nella mia vita, mai potevo pensare che una cosa del genere avrebbe potuto avere così un grande impatto sull'immaginario delle persone. Ora è ovvio che di questi tipi di scuola ce ne sono ancora pochi, però a me ha colpito tantissimo la trasversalità, cioè questa cosa è riuscita a colpire l'immaginario non solo delle persone, quelle un po' strane, ho conosciuto veramente tante persone, che io dico sempre, mamma mia, meno male che ci sono tante persone normali che si sono avvicinate a questo tipo di approccio, naturalmente diffidenti, però con una grandissima speranza. E uno dei punti chiave di questo tipo di approccio è proprio rivoluzionare il dove. E il dove non è l'aula, il dove non è il banco, il dove non è il libro e l'immaginario ha colpito così tante persone, ma milioni di persone, cioè tu sette anni fa chiedevi la signora nel bosco e nessuno ti rispondeva. Oggi prova a chiedere, ma la signora nel bosco, ah sì, sì, ho sentito parlare, sicuramente siamo nell'ordine di milioni. E questo è un segno che non si può secondo me sottovalutare. Poi dal metterlo in pratica tutti i giorni, nel farlo, ne deve ancora passare tanta di strada. Ma ha colpito l'immaginario, amico mio. Senti, brevemente, secondo te questa reazione è stata più, diciamo, è stata più un'attrazione prodotta dal progetto oppure le persone stavano aspettando quello, in qualche modo? Io credo che ci sia tanto il fatto dell'occhio, no? Cioè il fatto di vedere un bambino vestito in maniera, no, tipo invernale, che salta dentro una pozzanghera con uno sfondo di pioggia oppure come l'asilo del mare, no? L'immagine dei cigni nel mare, il bambino vestito in maniera invernale, che stanno lì e tu gli fai quella foto, il cervello mette insieme due cose molto belle, no? Il mare o la pioggia, l'atmosfera, il bambino piccolo, poi se ci fosse un gattino sullo sfondo, però potrebbe perfetto, è beccato proprio tutti gli elementi della cosa e questo aspetto qui è stato, è stato forte, no? Quindi già l'occhio di per sé. In più è il suono, no? Asilo nel bosco, ti immagini i gnometti, i folletti, i che ne so, tante cose che sul piano della narrazione, quindi il discorso dello storytelling, no? È una grande storia e come tutte le grandi storie arriva e tu pensi di averla capita prima ancora che tu l'hai capita, perché non l'hai capita da livello cognitivo, no? Ma ti è arrivata immediatamente una storia. Quindi credo che il successo era questo qua. Si è innescato con un bisogno di cambiamento, perché io che ti dicevo, no? Chiedi a 20 milioni di persone se la scuola dovrebbe essere cambiata. Tutti ti dicono di sì. Il problema è che nessuno ti dice come. Oppure le risposte del come sono sempre le risposte abbastanza standardizzate, cioè non ci sono risposte nuove. Questa è stata una grandissima risposta, totalmente rivoluzionaria, incredibilmente evocativa, che ha in qualche modo scosso. E quindi questo secondo me è il grande motivo. Senti, a proposito di risposte alla domanda come dovrebbe cambiare la scuola, in questi giorni sui social ha girato molto una foto che ritraeva dei bambini davanti al cellulare e dietro Rembrandt. Dopo qualche giorno è uscito fuori che in realtà i bambini stavano facendo un compito dato dalla maestra utilizzando un'app dopo aver osservato il dipinto all'interno del museo. Tu come la vedi questo tipo di evoluzione? Allora, che è perfetta? Hai fatto l'esempio meraviglioso di come una cosa può essere meravigliosamente vera o meravigliosamente manipolata. Tu estrapoli un frammento e di quel frammento la tua psiche ne fa quello che vuole. Se vuole confermare la propria idea che la tecnologia è il male, allora ci vede i ragazzini che se stanno a mandare messaggini non gliene frega niente di tutto il resto. E questo è un grosso problema. La maggior parte della gente cerca la conferma della propria idea, non vuole sperimentarne un'altra. Dall'altra parte invece diventa una risposta molto interessante nel momento in cui tu dici ok, io sto vivendo in questo momento l'esperienza di Rembrandt. La maestra vuole che magari i propri alunni riflettano su quell'esperienza e la condividano, la codifichino in qualche modo e quindi sostanzialmente chiede in quel momento di operare e di fare qualcosa. Come ti dicevo io non ho una questione contro la tecnologia. Cioè la tecnologia è qualcosa che nella condivisione dei momenti potrà veramente dare tanto. Cioè quindi su questo aspetto qui, come ti dicevo, per me natura e tecnologia sono due cose che non sono in antitesi. Però secondo te è una cosa accettabile che un bambino per poter assolvere un compito dato da un insegnante debba avere necessariamente uno strumento tecnologico in tasca che prevede il fatto che lui si metta con gli occhi su uno schermo che purtroppo oggi noi lo sappiamo che questo tipo di strumenti, soprattutto nei bambini, portano forse più danni che benefici. Non so, io vedo un po' di deformazione, un po' di distorsione della cosa, dell'utilità di questo tipo di processi. Cosa ne pensi? Guarda, questa è una domanda che tante volte ci poniamo e la risposta secondo me è sempre rispetto all'equilibrio. Cioè una volta c'erano solo le penne, adesso oltre che la penna c'è la tastiera. Anch'io sono estremamente convinto che, ma perché l'ho provato personalmente e penso che ognuno di noi in qualche modo se ne sia accorto, di che cosa significa scrivere con uno strumento piuttosto che un altro. Cioè scrivere così o scrivere con la mano sono due esperienze completamente diverse. Quindi in realtà io credo che i bambini contemporanei non debbano smettere di scrivere con la mano e sicuramente c'è una sorta di progressione. I bambini prima scarabocchiano e poi scrivono, ma solo i bambini hanno fatto così e l'essere umano che ha fatto così. Prima ha scarabocchiato, poi ha disegnato, poi ha codificato i disegni, sono diventati segni e dai segni ha fatto l'alfabeto. Filogenesi, ontogenesi, cioè all'interno di uno sviluppo c'è anche un percorso. Quindi io sono convinto che un bambino più è piccolo, più è naturale e più è progressivo ed è logico che sperimenti quelli che sono gli stati di civiltà più antichi, cioè prima passi dal cacciatore, raccoglitore, perciò per me la scuola è natura, per i bambini piccoli è sicuramente il primo passo da fare. È il miglior modo poi per andare, avvicinarsi alla tecnologia, avendo già fatto un percorso. Quindi se tu me lo collochi su una linea temporale dello sviluppo del bambino collegato allo sviluppo di quello che ha fatto l'umanità, è ovvio che se io metto, come è ovvio, un tablet in una culla perché così il bambino sta zitto e dorme o si rimbambisce fin dalla culla, è ovvio che è una follia. E' sempre il tema dell'equilibrio. Come ti dicevo il mio grande impegno negli ultimi anni è quello che mi rendo conto che magari è meno pop, perché cavalcare l'onda di siamo tutti verdi, ossia cavalcare l'onda siamo tutti tecnologici è proprio la migliore, insomma la strada più semplice per fare casino e fare polemica. Io sono convinto invece che sia assolutamente necessario porsi la domanda del bambino che sviluppo sta facendo. Quindi questa è la mia risposta. La scuola di ieri che bambini ha sviluppato oggi? Questa è una cosa che mi sono domandato anche io tante volte, infatti tante volte quando c'è il discorso no, ma la scuola di oggi è fatta male, sì ma oggi chi sta a fare la scuola di oggi? Chi è andato a scuola ieri? Quindi mi sembra proprio un errore di pensiero di quelli proprio basilari. Quindi la scuola di ieri ha prodotto brave persone, intelligenti più o meno come in ogni situazione. Per me la domanda quindi è con gli esseri umani che abbiamo oggi, che sono stati educati ieri, come possiamo portare un cambiamento verso il futuro? Quindi questa è la domanda che mi pongo io. Una cosa che ho visto girando tutta l'Italia, sono tre anni ormai che giro tutta l'Italia, ho accontrato tantissime persone, anche di età diverse. Sicuramente c'è un fatto, chi ha sotto i 40 anni, ma chi ancora di più che ne ha sotto 30, è una persona che è meno ideologizzata, è una persona sostanzialmente che non ha quelle categorie di pensiero, destra, sinistra, stato, privato, indeterminato, determinato, cioè una persona che è più libera da questi tipi di condizionamenti. Può diventare terribilmente nichilista, quindi sostanzialmente fregarsene tutte e di tutti e sfondarsi di aperitivi o scappare all'era, che ne so, reagire in questo tipo di modo qua, oppure essere più pronto a fare dei ragionamenti che non siano di natura ideologica. Quindi questa è la mia speranza. Allo stesso tempo, anche chi è più grande, perché calcola che l'età media in Italia degli insegnanti è sopra i 50 anni, sopra i 54 anni, con quelle persone lì, anche bisogna, e che esistono, bisogna andare a ragionare. Per me la grande domanda, sì, la grande domanda e in qualche modo anche la grande risposta è cambiargli il posto, cambiargli il luogo. Cioè se io ti cambio il luogo, sostanzialmente ti costringo a cambiare modo di pensare. Sicuramente il cambiare dei contesti aiuta questa cosa. E se ti posso dire, per me c'è un elemento fondamentale, cioè per me il cambiamento sta qua. Cioè il cambiamento della scuola è ovviamente l'elemento centrale della mia vita. Per farti un esempio appunto dei giovani di oggi, c'è una ragazza straordinaria, si chiama Silvia Pau, ha 23 anni, conosce perfettamente quattro lingue, mi ha chiesto una mano per fare la sua tesi di laurea, che al contrario delle centinaia di altri studenti che avevo incontrato non era in campo pedagogico, ma era in campo economico, e diciamo che l'ho aiutato a fare questa tesi e lei ha aiutato a me a schematizzare un bellissimo, proprio semplicissimo, modo di come si cambia la scuola e in realtà come sta cambiando. Cioè velocemente il concetto è questo, il cambiamento è qua. Sotto ci sono le persone, cioè le persone che stanno chiedendo un tipo di educazione diversa. Il loro grande merito è quello di chiedere qualcosa di diverso. Spingono dal basso, quindi sono le persone. persone. Poi che cosa ci sono? Ci sono qua invece le persone che sono dentro i sistemi educativi. Ricordati che i sistemi educativi, stiamo parlando di un ordine di grandezza di circa un milione di persone, questo è più o meno il numero delle persone che educa. Che educa, ok. Quindi se parlano solamente della parte, diciamo, di persone che operano come educatori. Sì, come educatori sono circa un milione. A questo milione però dovresti aggiungere, tu calcola che quelli che operano nel miuro sono circa 700 mila. Ce ne sono altrettanti precari. Quindi pensa agli ordini di grandezza di che cosa stiamo parlando. Gli studenti tra pubblico e privato siamo circa 9 milioni, quindi sempre per dare degli ordini di grandezza. Queste persone che stanno qui dentro, per quanto riguarda lo 0-3, che sono i nidi, che sono qualcosa di molto importante al sistema educativo perché quello che accade nei primi tre anni di vita condiziona totalmente tutto quello che accade dopo. Tu calcola che immediatamente circa, mi sembra, il 20-23% dei bambini vanno al nido, quindi comunque un numero basso. Però comunque di questi bambini qui il 64% va in strutture private. Quindi se tu demonizzi le strutture private, stai demonizzando di come si regge il sistema dello 0-3 in Italia. E queste poi sono tutte, diciamo, strutture che in qualche modo fanno capo alle regioni. E nelle regioni, che poi quindi nelle città, avvengono delle cose completamente diverse. Cioè come sono impostati i nidi in Emilia Romagna? Sì, da una regione all'altra. Cioè le differenze che già sono normali nel sistema educativo normale, quello statale, quando diventa normativa regionale diventano ancora più grandi. Nel bene e nel male, perché ci sono delle eccellenze straordinarie, ricordati sempre Reggio Emile, Reggio Cilde, tutta una serie di cose, e invece dei disastri assoluti in altre parti, in parte d'Italia. Però ritornando al punto, qui dentro ci sono delle persone che stanno spingendo per un cambiamento, no? Pensa al movimento senza zaino, pensa a tutta una serie di cose che stanno avvenendo dentro il sistema. Dall'altra parte, ok, invece da qua, esiste la società civile. Cioè tu pensi, io conosco degli imprenditori che anche lì, mica sono tutti male. Cioè parlare male degli imprenditori italiani, anche quella è una generalizzazione assolutamente sbagliata. Io collaboro con diverse società, te ne faccio un esempio, è una società che gestisce patrimoni immobiliari, si chiama EFM. Loro sono una società che sviluppa posti nuovi per lavorare. Cioè hanno sviluppato dei luoghi di lavoro che Olivetti, io sono convinto, ne sarebbe contentissimo. Io quando vado in quegli uffici a collaborare con loro, io sto bene, c'è luce, c'è veramente un mondo così. Loro chiedono di avere a disposizione delle persone che sono creative, che sono in grado di sopportare l'errore, il fallimento. Cioè, quindi anche dal mondo imprenditoriale in realtà c'è una fetta sana che sta chiedendo persone un'evoluzione che vanno verso la collaborazione, la responsabilità. Cioè, quindi c'è una parte sana del paese, del sistema produttivo che sta chiedendo un'educazione diversa. E poi qui sopra ovviamente ci sono le politiche, che sono sempre questo dramma che ci affligge a tutti. Però in realtà dal mio punto di vista, per operare veramente un cambiamento, tu devi far sì che queste quattro spinte vadano insieme. Perché altrimenti tu hai la lotta tra chi dice che l'alternanza su quale lavoro è il male perché i ragazzi fanno delle esperienze disastrose. E magari in alcuni casi è vero che fanno delle esperienze disastrose, però non è sempre vero. Io conosco tantissimi ragazzi che tramite l'alternanza su quale lavoro hanno fatto delle cose meravigliose. Però anche là raccontare che fa schifo in qualche modo aiuta sempre. Invece noi dovremmo capire che questa non è una dicotomia, che non possiamo lasciare fuori il mondo produttivo perché prima o poi quando vai e finirai di studiare a un certo punto dovrai andare a lavorare e non è possibile che tu non incontri mai il mondo del lavoro. No, perché poi si fa la stessa critica al contrario che il sistema educativo italiano è troppo teoretico, è poco pratico. Allora delle due l'una. Bisogna far capire che ci vuole quindi una coesistenza. Le politiche dovrebbero ascoltare e vedere quello che nella realtà funziona, perché anche qua tu puoi immaginare di cambiare la vita di 9 milioni di studenti, un milione di addetti ai lavori, quindi sostanzialmente tutto il paese attraverso un decreto legge. Ma quale legge può avere la forza di cambiare la vita di tutte queste persone in un sistema così complesso? Per me è molto più pragmatico e molto più pratico che invece il sistema comincia a cogliere quelle cose che funzionano e le mette a sistema. Mette a sistema le cose che funzionano. E in questi anni, attraverso bandi, progetti, esperienze, ce ne sono tantissime di esperienze. I maestri di Stato Napoletani hanno fatto un lavoro meraviglioso. Andrebbe preso e messo a sistema. Lo fanno, andrebbero supportato. La nostra esperienza di scuole all'aperto. La politica dovrebbe individuare quelle cose che funzionano e metterle su scala. E allo stesso tempo, anche qua nel mondo di chi insegna, rendersi conto che oggi i famosi esperti esterni che in qualche modo arrivano dentro le scuole, chiunque sta nella scuola vede che ci sono gli esperti esterni. E nella scuola dei bambini più piccoli sono a volte spesso anche maschi e il ruolo dei maschi all'interno della scuola, soprattutto nei bimbi piccoli, è una mancanza grave del sistema e non ci sono grosse politiche che lo incentivano. In altri paesi come la Germania c'è stato un lavoro per incentivare le politiche, per avere più maschi nella prima parte dell'educazione. Anche chi sta dentro si dovrebbe rendere conto che per i bambini contemporanei ci vogliono tante altre figure. Non solo quello che ha vinto il concorso e che ha tutto il diritto di stare lì, ma ci sono altre competenze che devono essere sviluppate. Allo stesso tempo le persone dal basso, secondo me, hanno il dovere di che loro lì informarsi e cercare di capire quali sono le alternative e mettersi là e a chiederle. C'è una proposta in realtà, io ho letto un tuo articolo molto interessante che mi hai mandato qualche giorno fa, sovranità educativa. Di cosa si tratta? Ma sai, la sovranità educativa è stato un concetto che io la prima volta che l'ho scritto ovviamente ero andato a fare una ricerca bibliografica prima, ho detto fammi vedere cosa è stato scritto in riferimento a questa cosa. E il dramma è che non trovai nulla. Ancora oggi se tu scrivi sovranità educativa su Google in italiano esco io come situazione. Quindi ho fatto tutto un ragionamento, perché io sono fatto così, prendo una cosa e poi la metto subito in relazione con l'educazione. Quindi ho sovranità popolare, sovranità alimentare, sovranità territoriale, monetario, ho detto vabbè ci sarà pure quella educativa. Ora sai qual è il problema? La parola sovranità ha acquistato una connotazione fascista, sì proprio terribile, quindi da una parte mi vergogno pure, ho detto sovranità è male. Quindi in realtà ho voluto giocare un po' con le parole, quindi oggi mi piace un'altra, sovrano uno si immagina il re, no? E quindi invece di sovranità oggi mi piace chiamarla responsabilità educativa, no? E qui sostanzialmente significa questo, è chi è sovrano, chi è responsabile dell'educazione. Questa è la grande domanda. Ora, fino a poco tempo fa la risposta univoca che si dava nel nostro paese è che il sovrano sull'educazione ha lo Stato. Ora, lo Stato nella sua grande situazione ce la fa, cioè ma poi soprattutto è l'ordine di grandezza giusto, cioè o nella realtà, infatti nella Costituzione c'è scritto, no? Cioè che comunque è lo Stato italiano, però lo Stato è un'entità, infatti si dice anche che in Italia è libero l'insegnamento, è libera l'istituzione di scuole senza oneri per lo Stato. Questa cosa qui vorrebbe una domanda enorme amico mio su questo, poi un giorno se ci fermiamo solo su queste parole qua. Sì, cioè come garantiamo il pluralismo a quel punto, no? Però ci sono tutta una serie di regioni legate a vicende storiche particolari. Però io voglio tradurla così. Senza oneri per lo Stato, ok. Quindi, però ci stanno i comuni, ci stanno le regioni e ci stanno le proprie, le ex province, quello che sia. I nidi sono retti già da queste entità e ci sono dei casi di eccellenza, anche di disastro, ma dei casi di eccellenza ci sono. Ora, in tanti paesi, amico mio, i sistemi educativi sono federali, cioè quindi sono in mano alle regioni o addirittura in mano alle città. Ora, avere un sistema educativo di quella portata, con quel numero di persone che vengono da tutta Italia, gestito attraverso concorsi che manco Google, Microsoft, tutte le multinazionali più grosse del mondo, tutte contemporaneamente potranno mai assumere tutto quel numero di persone nello stesso tempo. È una cosa che non sta nell'ordine della realtà. Infatti, come vedi, ci provano in continuazione, ma non ci riescono. Ma tu ti rendi conto ogni anno immettere 50.000, 60.000, 70.000 persone tutte insieme, in un mondo dove per ogni lavoratore c'è un precario. Cioè, sono ordini di grandezza, sconvolgente. Io quando mi confronto con altri amici che vivono da altre parti, loro mi rispondono sempre, cioè il mio amico danese dipende dalla città. Cioè, la città e il suo punto di riferimento più alto non arriva a tutto quanto lo Stato. Questo è il ragionamento di sistema. Dall'altra parte, noi invece, quindi lo schema che ti ho fatto prima, ci dobbiamo rendere conto è chi oggi è responsabile. Allora, responsabili sono i genitori, responsabile è la società civile, responsabilità è la politica e responsabile è chi ci lavora. Ok? Queste responsabilità devono essere equamente ridistribuite. E oggi questa cosa non c'è. C'è tutto il tema dei decreti delegati nella scuola, i consigli di istituto, chi decide che cosa, il preside, il consiglio, tutte queste cose qua. Ma in realtà dobbiamo fare una grande riflessione. E io ti dico, guarda, se dipendesse da me, io direi come sempre per cambiare le cose dalle marginalità. Per me le marginalità girando nel paese sono le periferie delle grandi città e le aree rurali che si stanno spopolando. Io ne ho incontrate tante di periferie di città, con delle storie e con delle persone che cercano di risolvere queste cose, hanno anche le idee per risolverle e ci stanno provando con mezzi zero. E dall'altra parte ho anche incontrato tante parti d'Italia che si stanno spopolando e che stanno cercando di mantenere vive delle piccole città. Perché tu ti puoi immaginare che in un paesino, anche di poche migliaia di abitanti, che cosa succede se la scuola chiude e se si accentrano i distretti educativi soltanto in varie parti? Che cosa significa quando tu da bambino non vivi più la tua atmosfera? Stiamo parlando di bambini piccoli, di scuola dell'infanzia, della scuola primaria, nemmeno di scuola media e superiore. Quindi quando una piccola comunità perde la propria scuola, e io ho visto sindaci, ho conosciuto tanti sindaci che veramente si arrampicano sugli spesi, inventano delle cose mostruose per salvare le proprie comunità e purtroppo non hanno tutto questo potere. E io credo che questo sia profondamente ingiusto. Quindi per me si può ricominciare come ordine di grandezza fattibile, senza voler cambiare tutto, ma io personalmente mi sto concentrando nelle aree rurali e nelle periferie delle grandi città. Se noi vogliamo accettare la sovranità educativa intesa come responsabilità di una comunità e vogliamo tradurlo in pratica, allora noi dobbiamo andare a vedere che come facciamo a convincere delle persone, per esempio un'area rurale, a non spostarsi, andare nella grande città. Che cosa ho visto? Che queste scuole cercano di sviluppare, per esempio, un sistema pedagogico educativo che sia più improntato sulla comunità educante e quindi su vivere lo spazio esterno. secondo te per fare questa cosa può starci una persona che è costretta a stare lì? Assolutamente no. Cioè per operare il cambiamento tu devi avere delle persone che non sono messe lì da un algoritmo, non sono messe lì da una persona che fa il proprio lavoro di burocrazia, vede il punteggio, sì più o meno tu fai là. No, ci deve essere qualcuno che vuole stare là, che ci sa stare, con delle caratteristiche pedagogiche e sociali ben precise, con una proposta ben precisa. La stessa cosa vale nelle periferie e nelle situazioni più difficili. Non ci può andare il più sfigato che è stato mandato lì perché poverino non sapeva che quel quartiere era una cosa terribile oppure perché ha un punteggio basso e quindi finisce nella situazione più marginale. Ci deve essere questo elemento, quindi tu ci devi voler andare, ci deve essere un qualcosa di pedagogico particolare e quindi devi cominciare a fare, di sviluppare dei sistemi di governance un pochino diversi. E questo non è così assurdo, cioè in tutti i paesi che conosco io, sia europei che fuori dall'Europa, hanno fronteggiato in questo modo qui le emergenze educative, dovendo cambiare un po', cioè prima di tutto rispondere a un perché diverso. Perché ci vai lì? Vado lì perché ci voglio andare, non perché mi ci hanno mandato. Dopodiché chi sei tu? Ovviamente se io sto in una marginalità dove per esempio attività sportive di un certo tipo ingaggiano i ragazzi o il ballo o tutta una serie di cose, tu devi avere delle persone che siano in grado di prendere i ragazzi su quel versante lì. E se non ce l'hai, fai una deroga su chi ci deve andare e ci metti un educatore in alcuni casi. Per esempio in tante ballie in Francia le scuole hanno messo gli educatori allo stesso livello dei professori a lavorare insieme. E questo cambia le cose, no? E quindi partendo, cambiando il motivo per cui sta là, cambiando un po' le persone che stanno lì, cambiando quindi anche che cosa si fa, lavorando un po' sui luoghi, a quel punto il cambiamento, possiamo andare a vedere se funziona. Dopodiché andiamo a replicarlo sulla scala più grande. Cioè dov'è chi ha funzionato? Lì? Perfetto. Come ci sono riusciti? Con questi parametri qua. Bene, allora li copriamo e li portiamo dall'altra parte. Ti ringrazio tanto Danilo, è stato un piacere fare questa ghiacchera e ti faccio l'ultima domanda prima di lasciarti libero. Se domani dovessi cominciare tu un contenuto video audiovisivo su BioBlue, che cosa faresti? Io farei un bel giro d'Italia, a tappe, però non in bicicletta che non c'è il fisico, lo farei sì, molendo anche un po' in bicicletta, però io andrei a farmi, a vedere tutte quelle realtà italiane che stanno facendo qualcosa, che stanno mettendo in campo qualcosa e gli andrei a chiedere chi sono, che cosa fanno, perché lo fanno e dopodiché andrei a tirare fuori tutti quegli esempi, tutti quegli esempi virtuosi che stanno operando in contesti completamente diversi e farai conoscere alle persone tutte queste cose meravigliose che stanno accadendo in questo paese, che tanti insegnanti, operatori, associazioni stanno operando per tenere in piedi un sistema che altrimenti è chiaro che non gliela fanno. Grazie Donilo, è stato un piacere. Grazie a voi tutti.